Una nuvola nera è fuori uscita dallo stabilimento Michelin in frazione Ronchia Cuneo e cinque giorni dopo è stata emessa un'ordinanza con la quale si vieta di mangiare frutta e verdura dagli orti e dai campi circostanti l'industria dei pneumatici. L'incidente è avvenuto venerdì 2 dicembre e mercoledì sera alle 20.30 il sindaco di Cuneo Alberto Valmaggia ha firmato l'ordinanza e vietato a scopo cautelativo raccogliere o consumare frutta e verdura nell'arco di un chilometro dalla Michelin così come c'è il divieto di Pascolo. L'industria, in base alla norma Seveso, è tra i dieci siti della Granda a rischio di incidente rilevante. Il protocollo prevede che gli interventi scattino dopo cinque minuti e non dopo cinque giorni come è successo questa volta. Secondo l'azienda dal cammino è uscito un carbonio amorfo, un materiale che per legge non è né tossico né pericoloso. Si sarebbe rotto un filtro fornito da una ditta esterna e sostituito solo a novembre. Il fumo si è subito diffuso in alcuni reparti dove lavorano 2.000 dipendenti e 300 interinali. Gli abitanti della frazione Ronchi hanno iniziato fin da subito ad avvertire un odore acre e a trovare erba, animali, tetti ricoperti da una sostanza nera. Molti hanno dichiarato di essere abituati a convivere con quella polverina ma di non farci più caso anche perché la Michelin, dicono, porta occupazione di questi tempi preziosa come loro e chi parla del nero fumo sui giornali o in televisione non è ben visto. La protezione civile e il parroco durante la messa hanno informato la cittadinanza anche con avvisi affissi in tutta la frazione.